Le emozioni della super sfida di Champions League tra Juventus e Chelsea in chiaro per tutti i telespettatori domani sera su Telenord-Est, emittente del gruppo Media Nord-Est. Il match che sarà disputato questa sera all'Allianz Stadium di Torino sarà visibile solamente per una ristretta fascia di pubblico abbonata a un servizio streaming. Ma domani sera alle 21 tutti avranno l'opportunità di vedere la partita in esclusiva su Telenord-Est, tasto 19 del telecomando. Giovedì sera la Juventus gioca contro il Chelsea su Telenord-Est, una straordinaria opportunità per vedere in chiaro una delle partite più belle di questo turno di Champions League. Un grande regalo a tutti gli appassionati di calcio, i juventini e non, e soprattutto a chi segue qui studio a voi stadio. Nella cornice di qui studio a voi stadio il match che vede di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e i londinesi trascinati dall'ex nerazzurro Romelu Lukaku. Due giganti del calcio europeo che si incrociano nella prima fase a Gironi, una partita degna di una finale che vede entrambe le squadre con all'attivo tre punti, frutto delle vittorie contro Malmo e Zenit. In gioco la testa della classifica, Juve e Chelsea daranno il massimo, uno spettacolo che tutti potranno vedere domani sera in chiaro a partire dalle 21 su Telenord-Est.